Le vacanze di Natale stanno arrivando e con loro anche i brani da leggere. Se il Natale di Alessandro Manzoni è nella lista, ecco l'analisi che stavi cercando. Quest'opera è la terza degli Inni Sacri ed è stata composta tra luglio e settembre del 1813. Manzoni aveva intenzione di scriverne 12, una per ciascuna festa della tradizione cristiana, ma arrivò a darne la stampa solamente 5. Questi componimenti sono la manifestazione della fede ritrovata dell'autore, motivo per cui il tema di quest'inno è proprio la nascita di Cristo, che di anno in anno suscita meraviglia in tutti gli uomini. La lirica è composta da due parti, le prime otto strofe hanno un tono celebrativo e teologico, la grazia divina è l'unico modo per redimersi dal peccato originale. A partire dal verso 57 invece si rievoca la nascita di Gesù, con un tono più narrativo e popolare. Non mancano poi riferimenti mitologici come al mito di Sisifo nella similitudine iniziale che paragona il masso all'umanità caduta per mano di Adamo, o i riferimenti classici a Dante e Virgilio e quelli biblici nelle reminescenze liturgiche.